Buonasera a tutti siamo qui al ristorante Don Juan è stato aperto dai miei genitori è stato il primo con la cucina vista Milano aperto dai miei nel maggio del 2000 più tipici argentini in assoluto sono la tiera del asado che sono le classiche cosine di manzo tagliate in senso contrario abbiamo il vassio che è il sottopancia un taglio leggermente più fibroso ma saporito con l'entrania che è il diaframma che è un taglio basso e sottile con il grasso che si sceglie dentro e per uscire un pochino dall'argentina ma rimanendo sempre in prima sudamerica la piccogna il taglio tipico brasiliano che è il filo di grasso intorno che dà sapore alla carne per il palato italiano che magari molte volte ricerca quello un pochino più magro un pochino più delicato abbiamo filetti contro filetti spaziamo dalle carni quelle più grasse alle carni quelle un pochino più soate conduzione a familiare non sono mai volute allargarsi né niente hanno sempre voluto rispecchiare un pochino questo ambiente più da campo più familiare in argentina la campagna più lo stile quello così che lo stile mondano magari di buenos aires e l'hanno rappresentato qui queste sono le tipiche dei gauchos no che si mette come se fossero delle cinture di qua qua trovate anche le boladoras quelle che usavano per prendere i tori sono questi colori caldi che ricordano molto la campagna qualcosa di elegante ma senza essere troppo raffinato